Hello, Luigi, India Zulu 7 Papa Delta X-Ray, sempre alle prese con questo kit SDR assemblato di provenienza tedesca. Ora stiamo ascoltando l'audio proveniente dall'SDR, dalla scheda audio del PC amplificato tramite degli altoparlantini. Ora posizioniamo in mute, utilizziamo l'audio invece di ricezione del segnale dell'FT 950. E ora l'audio ricevuto dall'SDR, prelevando la prima frequenza intermedia, l'IF, tramite l'apposito caverto, amplificato, mixato e poi inviato alla scheda audio del PC che è una 48K di campionamento, quindi non è elevata come qualità della scheda. Possiamo dare un'occhiata allo spettro ricevuto, che denota un certo rumore di base, un certo noise di base, che purtroppo dipende dalla scheda audio e non possiamo fare granché. Vediamo spegnendo la radio che il noise, ahimè, purtroppo rimane. Devo sostituire la scheda audio con una scheda da 96K di campionamento, ma sostanzialmente possiamo già ritenerci soddisfatti. Le prestazioni sono discrete, la ricezione dell'audio è ottima, le impostazioni sono quelle originali, Ego numero 1? Ego numero 1?